Salve a tutti e benvenuti sui Levelstep. Eccoci qua con un nuovo video, ma soprattutto con una nuova novità. Finalmente ho creato un nuovo server su Discord. Eccolo qua. Devo ancora aggiungere tante altre cose, ancora è abbastanza vuoto, ma pian piano riuscirò a fare tutto. Non volevo ovviamente aspettare più di tanto, ho detto no, oggi devo fare il video e oggi voglio invitare più gente possibile. Ancora ci sono soltanto io, ma spero che pian piano riusciremo a crescere. Ora vi spiego come utilizzarlo, perché qualcuno potrebbe dire sì, ma che cos'è sto Discord? Io ho la prima volta che ci metto mano. La prima cosa che dovete fare è cliccare sul link che trovate qui sotto in descrizione. Basta quindi un semplice clic e vi dirà confermo. Vuoi entrare in questo server? E tu fai ovviamente entra. Poi ovviamente ti chiederà se hai un account. Ecco, la prima cosa che dovete fare è registrarvi se appunto non avete un account su Discord. Ma ragazzi è una cosa semplicissima. Due passaggi, boom. Qualcuno potrebbe dire sì, ma devo fare tutto questo per i Levelstep. No, perché qui trovate non solo il mio server, ma tanti tanti altri server. Ad esempio, server sempre dedicati alla musica, server dedicati anche ai giochi, ai film, insomma c'è di tutto. Questa piattaforma sta andando veramente veramente forte. Troviamo, vedete qua, io ho il canale di Dubstep Getter, artisti, anche server di giochi a cui ogni tanto mi metto a giocare. Principalmente Discord nasce per comunicare tramite le chatte vocali. Vi ricordo inoltre che trovate sia l'applicazione per desktop e soprattutto anche per smartphone. Vedete? Quindi avete Discord sempre a portata di mano. Quindi ad esempio vado su questo server e quindi posso mandare la mia traccia, posso ricevere feedback, posso ascoltare musica, posso vedere altre cose. Vi potete davvero arricchire per quanto riguarda consigli, feedback, vi aiuterà tantissimo. Ma torniamo qui adesso sui Levelstep. Qui a sinistra ci sono le varie, diciamo, categorie e i vari canali. Quindi dimenticavo, faccio una premessa, perché qualcuno potrebbe dire anche, ma sì, ma tu hai creato il gruppo su Telegram, perché adesso stai facendo anche questo? Allora, il gruppo Telegram l'ho creato all'incirca due anni fa, se non erro, non mi ricordo bene. All'inizio andava abbastanza forte, più di 500-600 messaggi al giorno, insomma era molto molto attivo. Feedback di qua, feedback di là, insomma andava bene. Invece ultimamente è poco attivo, ci sono 159 membri, ma solamente 2-3 sono attivi. Anzi, sono più attivi i bot che la gente vera, quindi immaginate ormai il casino che c'è. Perché non funziona più Telegram? Perché poi la gente si stanca, magari, che ne so, io ti mando una traccia su Telegram, voglio un feedback, e poi arriva magari un altro e dice magari un'altra cosa, e poi un altro ancora e dice un'altra cosa, e poi il tuo messaggio viene ormai dimenticato, perché se ne va troppo in alto. Invece con Discord questo non succede, perché qui abbiamo tutto bello organizzato, tutte le categorie, i canali, ad esempio io voglio ricevere un feedback. Clicco qui e questo è il canale dedicato ai feedback. Vedete che questo qui praticamente sono le categorie, quindi music, production, qui dove si parla appunto di produzione musicale, qui appunto musica, dove magari potete scambiare un brano che avete ascoltato di un artista e così via. Qua invece ci saranno i video tutorial che vado a pubblicare io. Questa invece è una chat generale, qua si parla di giochi, film, insomma, e qua invece ci sono i canali vocali, che attualmente ce n'è soltanto uno. Semplicemente se io clicco qui, connesso, vedete? Io adesso posso parlare con chi è dentro questo canale. Ci sono attualmente soltanto io e quindi sto parlando da solo. Però se voi cliccate qui potete appunto comunicare, parlare con gli altri. Invece di scriverla, magari vi secca, potete fare così per disconnettervi da questa chat vocale. Perché l'altra volta ho detto, ma come si fa un casino? La prima volta non riuscivo, mi mettevo a parlare da solo. E poi semplicemente basta fare qui sotto disconnetti. Bello, tutto bello organizzato. Come mi piace a me? A me piace appunto avere delle cose belle sistemate. Qui si parla di questo. Qui si parla di quello. Qui invece in alto i level step. Questa è una cosa che non vi ho detto. Qua c'è benvenuti, che appunto è una cosa quando appunto qualcuno si iscrive. Poi ci sono qua le regole, cose che vi consiglio di leggere. Poi qua metterò tipo annunci vari. Queste sono poi delle chat dove potete solamente leggere, ma non potete scrivere. Poi la cosa fantastica è che potete riprodurre un video o una canzone da Soundcloud direttamente su Discord. Senza magari aprire altre schede. Guardate, andiamo qui su video tutorial. Questo è quello che ho pubblicato io. Plicco qui. Salvatore sull'inviluppo. Senza quindi andare su YouTube, direttamente qui su Discord. Questo vale anche per Soundcloud. Quando ad esempio andiamo su Feedback, io mando un mio brano. Direttamente faccio il tasto play e lo ascolto direttamente da qua. E quindi posso commentarti in diretta. Ora ovviamente non lo so per cellulare se fa la stessa cosa. Quindi semplicemente cliccate sul canale interessato. Potete scrivere ciao. E col tasto più potete inserire una gif, un'immagine, un file audio. Tutto quello che volete. Qua invece poi ci sono diversi smile come ad esempio tutte le categorie. Vedete? Però potete cliccare ad esempio qua. Vedete? Posso mandare questo nerd. Nel frattempo vedete questo bot mi ha detto che sono a livello 2. Perché qui potete anche diciamo avanzare di livello. Qui in alto potete silenziare le notifiche se vi danno fastidio. Qui invece ci sono i messaggi fissati. Quindi se io ad esempio metto un messaggio importante lo metto qui. Qui ci sono le menzioni. Se qualcuno magari vi tagga, non so, per qualcosa. Per ovviamente menzionare qualcuno basta fare semplicemente la chiocciola. E poi qua ci sarà tutta la lista di ovviamente gli utenti che sono presenti in questo server. Tipo scrivo il nome T11. Quindi posso poi scrivere bella la tua traccia. Vedete? E viene taggato. Potete ovviamente anche aggiungere un amico. Clicco destro. E possiamo quindi fare aggiungi amico. Ok. Spero di avervi detto tutto. Se ci sono problemi sempre come al solito. O potete dirmelo qui stesso. O direttamente qui su YouTube. Il link ovviamente è sempre qui sotto in descrizione. Mi raccomando vi sto aspettando qui. Se questo video ti è piaciuto lascia un like. Iscrivetevi al canale se già non l'hai fatto. E attiva la campanella. Per restare sempre e comunque aggiornato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.